Buonasera a tutti voi, ben arrivati. Questa sera ci troviamo qui non solo perché siamo dentro ad una storia ormai, dentro a una serie di appuntamenti che ci vedono impegnati e che sono stati appunto portati avanti dalla rassegna, ascoltare, leggere, crescere, ma siamo qui, direi proprio felici anche di incontrare uno dei più grandi studiosi del Medioevo, naturalmente un fiorentino per cui sappiamo che non gli mancheranno le battute, il professor Franco Cardini, che basta che uno così abbia un po' di voglia, va su internet, wikipedia e vede la sterminata bibliografia del professore che ha veramente scritto di più e in maniera significativa, approfondita, anche in maniera innovativa. Mi piace poi pensare che oggi, 4 di ottobre, ricordiamo, per la Chiesa naturalmente, ricordiamo il San Francesco, patrono d'Italia e il professor Franco Cardini ha scritto un libro di approfondimento di questa figura e ce l'ha presentata al di là di quelle che potevano essere un po' la mielosità tipica magari anche di una certa geografia e ce l'ha fatto cogliere proprio nella sua essenza e lì, personalmente, quando ero giovane universitario, ho avuto modo di apprezzare proprio le fatiche del professor Cardini. Questo infaticabile studioso che ci offre percorsi di storia del passato ma anche per non solo fare cultura ma per interpretare l'oggi, interpretare l'oggi. Infatti l'ultima sua fatica è la deriva, il testo della sua ultima fatica è la deriva dell'Occidente, dove l'ultimo capitolo è un capitolo impegnativo, forse anche angosciante per alcuni aspetti a partire dal titolo stesso, il Tempio di Giano riapre i battenti e purtroppo questa terza guerra mondiale a pezzi come la chiama il Papa è alle nostre porte. E quindi anche in tutto questo, ecco, bisogno la necessità di riflettere sul passato per capire al meglio il presente. Non voglio dilungarmi oltre, se non attraverso il ringraziamento anche del Centro Culturale del Noce che in qualche misura collabora con questa rassegna proprio per presentare una figura noi cara della quale poi parlerà al meglio sia il Professor Cardini ma anche con l'aiuto e con una serie di provocazioni da parte del Professor Brunettin che molti di noi conoscono. Quindi a tutti voi un buon ascolto e un ringraziamento ulteriore al seminario che ci ospita in questo ambiente che ci permette quindi di riflettere, di pensare e di andare anche avanti in questa nostra storia che per alcuni aspetti sembra crepuscolare. Buon ascolto a tutti. Ben trovati a tutti voi. Già il Professor Cardini è stato presentato un monumento, ah no, lei direbbe i monumenti si fa ai morti, no? Cioè un'istituzione della nostra storia medievale e non solo nostra perché il Professor Cardini è stato docente anche in diverse università per il mondo di storia medievale. Quindi conosce bene non soltanto le problematiche della storia medievale e delle sue fonti ma anche uno sguardo alle vicende del mondo alla storia non soltanto del medioevo italiano la storia del nostro occidente e anche in buona misura d'Oriente. E potremmo dire che uno degli aspetti delle ultime fatiche del Professor Cardini è stato proprio quello della demitizzazione o se preferite della depropagandizzazione del cosiddetto scontro fra Oriente e Occidente che ha una sua storia. La propaganda si è sempre fatta più o meno efficacemente, più o meno abilmente, più o meno sottilmente e quindi in questo grande conflitto fra Oriente e Occidente da Poitiers fino ai nostri giorni si è sempre costruito questo mito del nemico alle porte. Nemico alle porte che in una certa misura c'è e la storia dell'umanità ha sempre qualche conflitto quante opposizione più o meno violenta. Ma molto spesso è un nemico utile, un utile nemico, proprio perché si costruisce attorno a questo nemico un discorso, una propaganda che è utile a portare avanti tanti affari, tanti disegni, tante strategie di riorganizzazione della propria società. Quindi il nemico, come per il caso dei turchi, visto che qui siamo tutti assieme e sentiremo il Professor Cardini a parlare anche della figura di padre Marco Daviano, beh, anche nel caso dei turchi alle porte nel 1683 siamo di fronte a una certa misura di una costruzione che è stata utile per degli affari interni. Allora, dopo potremo entrare nel dettaglio di quali affari, quale impostazione, quale costruzione dello Stato si volesse portare avanti con l'utile alleanza del nemico esterno. Lo vedremo probabilmente. Certamente, però, quello che interessa è questa demitizzazione. anche sulla figura di padre Marco è stata cucita addosso una mitologia. Se ne parlava come, poc'anzi, come di una vulgata utile, quella di mostrare il padre Marco come maresciallo sul campo. Però il maresciallo del crocifisso, quindi potremmo dire che maresciallo è il maresciallo del crocifisso. Citiamo subito, volevo farlo alla fine di questo incontro, citiamo subito il capitolo quinto dei promessi sposi, dove al centro c'è la figura guarda un po' di un cappuccino. Padre Cristoforo è in un certo senso per Manzoni l'archetipo del cappuccino e nel dialogo che ha con il conte Attilio sulla famosa disputa che gli ambasciatori, il duello, eretto a giudice di questa avvertenza di punto d'onore, alla fine si dice beh, lei è stato eretto a giudice, dio la sua sentenza. Padre Cristoforo dice ma io vorrei che non vi fossero né sfide né duelli né scontri ma lei vuole ribaltare il mondo caro padre via via lei ha voluto prenderci in giro esattamente potremmo dire quella che è stata la figura di padre Marco padre Marco in fondo non è il comandante sul campo che ha sconfitto il nemico ma colui che si è preoccupato innanzitutto della conversione dei cuori e quindi la vera figura di padre Marco non è tanto quella dell'obbedienza a cui lui venne tenuto da Papa Innocenza XI che fu forse il vero artefice della vittoria alle porte di Vienna sui turchi padre Marco è soprattutto l'uomo il missionario della conversione dei cuori colui che vorrebbe fare la rivoluzione colui che vorrebbe veramente che non vi fossero più né guerre né conflitti né violenze né ingiustizie ma questa è veramente una rivoluzione inammissibile caro padre Marco lei ci vuole prendere in giro risponderebbero gli uomini del suo tempo ma forse anche noi perché questi conflitti queste guerre queste sfidi questi duelli in fondo una misura o nell'altra fanno comodo a tutti in qualche maniera anche in maniera apparentemente contraddittoria dunque il professor Cardini ha lavorato molto su questa demitizzazione è esattamente su questo punto che lo vogliamo anche sollecitare visto che è una sua opera il turco a Vienna sì è una roba vecchia certo beh relativamente vecchia non solo nel 63 riguarda anche il 29 certamente quello che ci interessa di questo libro è che il professor Cardini non soltanto ha guardato ha cercato di costruire nel dettaglio con le testimonianze le fonti le vicende propriamente dell'assedio come si è svolto il prima il dopo il durante ma tutte le premesse che ci sono state prima premesse politiche diplomatiche propagandistiche le alleanze i patti il mungere la sede apostolica che si illudeva come tanti papi prima di inocenza undicesimo che questa gente che batteva cassa lo facesse con una buona intenzione cioè di difendere naturalmente la cristianità insomma in fondo a pensare bene non si fa peccato però si perdono i soldi molto spesso quindi partendo proprio anche da questa ricostruzione e da questo sguardo retrospettivo sulle premesse politico diplomatiche e militari della sede di Vienna di cui uno dei protagonisti sicuramente è stato padre Marco sollecitiamo proprio il professor Cardini a entrare un momentino anche in queste dialettiche in questi conflitti in queste ipocrisie che hanno coinvolto la santa sede il padre Marco e le corti europee che si spacciavano naturalmente come cristiane cristianissime apostoliche e così via spero di aver un po' inquadrato la questione la terza voleva un grande quadro sui rapporti fra l'impero ottomano e l'impero il sacro romano impero che in quel momento si apprestava a divenire definitivamente dopo la morte di Carlo V l'impero d'Austria anche se tecnicamente e diplomaticamente non era non aveva senso chiamarlo così ma in pratica era la Felix Austria non tu Felix Austria nube cioè fai lascia fare agli altri le guerre eccetera tu c'hai una casa regnante che è fortunatamente prolifica non sarà bellissima sarà affetta da prognatismo e da quant'altro però fa un sacco di figli quindi domina attraverso i matrimoni gli Asburgo lo facevano alla grande dovendo fare questo discorso generale per accontentare l'editore beh io stavo al gioco avevo firmato il contratto quindi la colpa è solo mia beh ho dovuto spaziare dalle guerre in Spagna e quindi anche in oltreoceano fino ai margini dell'Europa come allora e anche oggi più o meno si intende a livello geopolitico e quindi lo spazio per l'assedio di Vienna nel 1683 che era uno dei miei grandi amori per tanti per tanti versi si vede da parte austriaca l'eredità del grande maresciallo uno dei più grandi fermi marescialli che l'impero abbia mai avuto il modenese con Teremundo Montecuccoli si vede l'abilità dell'amministrazione che l'imperatore lascia a Vienna quando lui glielo rimproveranno ma a torto quando si vede con chiarezza che l'idea di Caramustafà è quella di sigillare Vienna con un grande assedio l'imperatore deve andare via deve andare al nord a Presburgo in un luogo sicuro perché ha molte altre incombenze certo la cancelleria francese di Francia re Luigi XIV e sole lo accusa immediatamente di codardia lo accusa di aver lasciato il popolo della sua capitale re Luigi che a Parigi non ci andava nemmeno se lo stava facendo Versailles proprio in quel momento siamo nell'83 l'aveva fatto di fresco ormai non era più una palude non c'era più pericolo di malaria era diventato un paradiso figurarsi se andava in quella cloaca sporca pericolosa malsana viziosa di Parigi insomma c'erano vizi anche a Versailles ma era molto più profumati e sì non che Versailles fosse anche profumata ma sempre più di Parigi bene l'imperatore ha tradito il suo popolo l'ha abbandonato no no l'imperatore ha mantenuto contatti è stato molto vigile però chiaramente non si è lasciato imbottigliare è una commedia degli equivoci questa dell'assedio di Vienna ne parlerò forse fra un attimo però quando ho aperto questo ecco la commedia quando ho aperto questo libro mi sono messo a leggerlo devo dire molto avidamente e ho letto il lavoro di Margherita Agostini quella di Giordano Brunettin e mi sono venduti un sacco di cattivi pensieri nei confronti di me stessa di rimorsi lo sapevo benissimo sapevo benissimo per esempio io avevo trascurato perfino le carte di Brunetti che sono a due passi da casa mia perché dovevo fare una cosa di grande lungo periodo una cosa quindi fatalmente sapete quello che si guadagna in estensione si perde in profondità e viceversa d'altra parte lavorare sulla profondità è il grande desiderio di tutti gli storici però nello stesso tempo gli storici hanno anche un'altra funzione e in questo senso gli storici che sono anche perché magari il loro lavoro è anche quello degli insegnanti che sono più addetti a mostrare le connessioni di medio e di lungo periodo qualche volta perdono l'approfondimento si dovrebbe mantenere un equilibrio è come in politica l'equilibrio fra la libertà e l'uguaglianza no? la democrazia dovrebbe essere questo l'equilibrio fra la libertà e l'uguaglianza che sono i due cavalli fraternità c'è anche lei ma è troppo è un dato troppo alto e quindi si fa finta che non esista ma la libertà e l'uguaglianza si ma non sono complementari la libertà e l'uguaglianza non ci pensano nemmeno la libertà e l'uguaglianza sono opposte fra loro un eccesso di libertà uccide l'uguaglianza un eccesso di uguaglianza uccide la libertà la politica sta nel mezzo la politica è lauriga che dovrebbe mantenere un giusto mezzo però questo giusto mezzo poi viene ideologicamente ritagliavo e la storia è fatta così tra la la grande storia generale come si usa dire e come dicono i miei colleghi e la qualche volta più modesta storia che si fa faticosamente nelle biblioteche negli archivi e che qualcuno dei miei colleghi la chiama quando nessuno lo sente sprezzantemente erudizione ma la storia l'ossatura della storia è questa il grande Ernest Ebernaim sfuggito per puro caso ai campi di sterminio quando era quasi novantenne ma quando lo tolsero alla sua università vi fu una sollevazione da parte degli insegnanti ivi compreso quelli iscritti al partito nazionalsocialista che vollero difendere fecero quadrato in sfondo al suo grande lettore di Heisfeld era quello che aveva scritto per l'accademia gioventù per l'accademia imperiale germanica un manuale di misodologia e la storia che è diventato una delle nostre basi dovrebbe essere una specie di Bibbia di Vangelo di Magna Carta e il professore Bernheim ci insegna che la storia si organizza in quattro fasi rigorose la fase dell'analisi la fase dell'euristica della ricerca delle fonti delle fonti la fase dell'analisi delle fonti alla luce anche degli studi la fase della sintesi tra quello che si è riusciti a capire e a organizzare nell'analisi e poi la fase dell'esposizione e così facendo il professor Bernheim metteva d'accordo volontariamente coscientemente programmaticamente metteva d'accordo Erodoto con Cicerone che è è una dinatron è come la faccenda della libertà e dell'uguaglianza è quasi impossibile cosa dice Erodoto ha torto in malafede io confesso sono vecchio ma Erodoto non l'ho mai conosciuto e quindi non lo so se fosse in buona o malafede certo visto dagli storici modernici viene il dubbio che fosse un po' mariuolo però è un dubbio che non possiamo comprovare lui dice historie sacodexis la storia è l'analisi di quello che è accaduto facile a dirsi ma come si fa a stabilire quello che è accaduto bisogna studiare bisogna ricostruire siamo sicuri di ricostruire la verità o ricostruiamo una serie di abusi di errori di menzogne precedenti prendendole per verità questo Erodoto non ce lo spiega Cicerone come sapete non era diciamolo anche con tutto il rispetto per il grande uomo che è stato e la Pietas per come è morto Cicerone non è un uomo che è anche onesto almeno intellettualmente e infatti la sua disonestà la palesa alla grande da par suo dicendo che la storia è opus maximi oratorum e così fingendo di appoggiarsi ad Erodoto dice quasi il contrario la storia serve soprattutto ai reitori ma i reitori cercano la verità ma per carità la verità la cercano i scienziati la verità la cercano i filosofi lo dice la parola gli amanti della sapienza i reitori fanno un'altra cosa i reitori persuadono e persuadono in generale professionalmente vuol dire che qualcuno li paga per persuadere e che loro cercano di essere pagati per persuadere e allora la storia non è più una scienza della ricerca della verità ma diventa una scienza della ricerca del consenso dell'organizzazione del consenso della costruzione del consenso è molto difficile e nelle fonti e qui anche molti di voi che hanno partecipato a questo libro scrivendolo seguendone le fasi mi capiranno perfettamente e in questo libro si vede si vedono le linee di faglia tra quello che è accaduto e quello che c'è cercato di ricostruire e quello che manca io auspico e lo auspico fermamente ed esplicitamente in questa sede impegnandomi a collaborare perché ciò avvenga che per esempio quello che io non ho saputo o potuto e nemmeno voluto fare un esame attento che la signora Agostini ha fatto in modo migliore di me e commensurabilmente migliore di me le carte di Cosimo Brunetti dedicate a quello che è stato uno dei miei granduchi di Toscana Cosimo III non è il mio preferito poi io preferisco decisamente Lorena Gliasburgo Lorena e me dici ma comunque Cosimo III è stato molto bistrattato dal compianto amico e maestro Furio Diaz che da buon marxista leninista marxista gramsciano leninista con questo bigotteria di Cosimo III penso l'aveva un po' antipatico in Furio Diaz prevaleva il pensatore laico sul pensatore gramsciano per la verità fosse stato gramsciano avrebbe trattato con maggior rispetto lo sapete tutti con maggior rispetto tutto quello che riguarda la fede o la religione e il pensatore laico invece le cose le vede in un'altra maniera queste carte dei brunetti sono assolutamente preziose ma ce ne sono anche altre l'assedio di Vienna da questo punto di vista è uno scrigno immenso anche di bellissime cose fra l'altro ed è avviene in un momento importante è il momento del vero cambiamento dell'Europa e questo diciassettesimo secolo avete presente i crimini gli errori e i crimini del fascismo che come sapete sono moltissimi fra gli errori e i crimini del fascismo se ne dimentica sempre uno perché qualche volta li si attribuiscono anche errori e crimini che in realtà esistono molto meno di quanto di quanto Paia almeno alcuni non si dice mai che il fascismo ha perpetrato un errore e un crimine intellettuale del risorgimento facendo sparire dei secoli interi dalla faccia della storia d'Italia perché la storia d'Italia che era storia europea che era storia mediterranea ha vissuto un grande momento un grande momento sul quale è giusto esercitare la critica e sul quale io personalmente sono tutt'altro che è un critico positivo ed elogiativo ma è un è il grande momento questo 5-600 in cui nasce veramente arriva al suo culmine quella modernità che è nata nel seculum modernum per eccellenza che è il 200 è nata come rivoluzione industriale si è sviluppata poi come rivoluzione tecnologica poi è arrivata la rivoluzione filosofico culturale dell'umanesimo poi sono arrivate le grandi rivoluzioni tecnologiche che ci hanno permesso scoperte e invenzioni a monte di a monte di Galileo a monte di Cristoforo Colombo noi occidentali abbiamo conquistato il mondo come usiamo dire grazie alla nostra superiore cultura in fondo siamo stati portatori di Cristo di Platone di Aristofile in tutto il mondo abbiamo fondato la nostra egemonia sul mondo su questo Husserl no? Husserl dice questo un collega mi ha rimproverato qualche giorno fa di essermi dimenticato di Husserl perché io ho detto che beh insomma nella deriva dell'Occidente ho detto che insomma Oriente e Occidente sono realtà geometria variabile come diceva l'imperatore Federico II in un suo bel componimento poetico tempo bene chi sale e chi discende oggi noi siamo in un momento in cui l'Occidente sta vedendo di perdere la sua sta assistendo alla perdita della sua egemonia sul mondo ma quale Occidente? La parso occidentis di Onorio rispetto alla parso orientis di Arcadio ma nemmeno di idea ma nemmeno per idea la parte orientale del mondo come la vedeva Eschilo nei Persiani ricordate il bellissimo croro dei Persiani quando la principessa Tossa un'operazione di Nechia chiama dal mondo delle ombre il gran re Dario per farsi spiegare perché l'esercito più potente del mondo ha perduto a maratona contro una banda di contadini rifatti travestiti da soldati richiamati sulla base di questo buffo bando per cui tutti i cittadini erano soldati ma è il modo di fare questo il gran re i soldati li prendeva dai popoli che erano guerrieri da generazioni che erano grandi cavalieri grandi arcieri grandi allevatori cavalli eccetera e questi facevano questi combattevano come fanti eppure hanno vinto e come è successo questo e il coro esprime proprio Jung e Schmitt in questo bellissimo libro che si chiama Il nodo di Gordio dibattono proprio su questo questa proto definizione dell'Oriente e dell'Occidente l'Oriente come la terra misteriosa della magia del regime notturno dell'immagine come direbbero le antropologi della fiaba del mito questa terra di grandi deserti e di città popolatissime questa terra del dispotismo orientale ricordate il dispotismo orientale che poi è diventato quasi un modo di dire dopo una grande opera ottocentesca l'Oriente dispotico l'Oriente ricco l'Oriente fantastico l'Oriente opulento da una parte e dall'altra l'Occidente sobrio l'Occidente razionale il regime diurno dell'immagine il regno della ragione gli opliti che non si spostano che stanno in linea dritta retta con le loro lance e spezzano l'ardore dei cavalieri persiani West East is West and East and East ha detto Kipling che si sentiva anche lui con Eschilo a Maratona dalla parte dell'Occidente che diceva tanto l'Est sarà sempre l'Est l'Ovest sarà sempre l'Ovest vi ricordo quella bellissima poesia dedicata a un fuciliere di sua maestra britannica ferito sull'altipiano dell'Afghanistan siamo nelle guerre afghane nel 1848 chi non ha letto Kipling ha visto sicuramente le illustrazioni di Ugo Pratt e quindi dovrebbe avere un'idea di tutto questo oppure noi abbiamo tutti letto Kim abbiamo visto i film su Kim degli anni del 900 grande film in Technicolor dice Kipling rivolto al fuciliere ferito quando tu ti trascinerai perché ti hanno ferito alle gambe per cercare di recuperare il tuo fucile e senti dal fondo della valle questo rumore che fanno le donne afghane percotendo con la lingua le pareti delle guance le pareti esterne che è un rumore di guerra è un rumore di di ferocia è un rumore che ricorda le grida e le baccanti e le sentirai salire verso di te prendi il fucile cacciati la canna in gola e fatti saltare le cervelle prima che ti prendano e ti facciano a brani l'est è l'est è la ferocia è l'indomabilità l'ovest è l'ovest è l'ordine la capacità di mettere di mettere ordine dicevano già i romani tu popoli romani popoli romani reggere popolo sremmemento è questo e reggere vuol dire anche sfruttare reggere vuol dire anche derubare reggere vuol dire anche giustiziare quando in fondo si giustiziano persone che in fondo dipendono del loro paese non hanno fatto altro che questo ma questo ci sfuggiva a noi occidentali ci è sfuggito finché abbiamo avuto l'egemonia lettore devoto di Husserl mi rimprovera ma lei lei ha scritto un libro che non si capisce se è un libro di sinistra scritto da un autore di destra un libro di destra scritto da un autore di sinistra lei sostiene che anche l'occidente ha le sue albe i suoi tramonti e altre cose verranno dopo lei sostiene sembra contento di sostenerlo che ormai il tempo del monopolismo del potere sul mondo è finito che il tempo di Fukuyama è chiuso definitivamente ormai siamo al pluralismo accanto alla Nato sta crescendo il Brics stanno tornando alla guerra ma questa guerra è di nuovo l'affrontamento si chiama terza guerra mondiale che magari non è ancora matura che magari non maturerà mai che magari durerà a livello endemico a livello di media tensione chissà quanto e questo lei si dimentica che l'occidente invece è quello che ha detto Hegel la sera della civiltà destinata a non tramontare mai e con questo mi sembra che si faccia della tautologia dimostrando che l'occidente è la civiltà che non tramonta mai alla luce di Hegel e alla luce di Kosserl che hanno detto appunto questo provare qualche cosa adducendo come prova delle asserzioni è un'operazione tautologica un minimo insomma primo anno di filosofia ci insegnano che queste cose non si debbono fare traducendo questa operazione pseudo-filosofica di filosofia fallace in termini di dialetto volgare napoletano si direbbe che un europeo che pensa questo fa la stessa operazione che il napoletano suona col proverbio o scarrafone bella mamma soia lo scarrafone occidentale che probabilmente è bello per gli occidentali è bello appunto per loro ma questa è la scoperta dell'acqua calda in realtà se vogliamo fare un'operazione e questo ce l'ha insegnato Levi-Strauss che non è l'ultimo arrivato e bisogna avere il coraggio di capire anche la coscienza degli altri anche gli strumenti culturali degli altri il modo di ragionare degli altri cosa faceva il nostro cappuccino Daviano in fondo faceva questo sbaglia chi dice che Daviano predicava lo scontro di civiltà non ci pensava nemmeno predicava la crociata e badate Francesco è andato alla crociata la mia amica rimpianta amica Chiara Frugoni ha scritto recentemente prima di morire uscita la seconda edizione riveduta e corretta è stato un bene è stato il suo regalo prima di lasciarci un bellissimo libro sull'invenzione del presepio da parte di Francesco dove partendo da una paginetta di Tommaso D'Acelano del primo biografo di Francesco D'Assisi lei spiega come Francesco abbia fatto un'operazione rivoluzionaria rispetto ai ludi teatrales di cui era pieno tutto il medioevo e il ludus dell'attività e il ludus della passione che vedevano anche in modo così qualche volta addirittura da salti in banchi in vase le chiese o i sagrati da sacerdoti che si vestivano si vestivano da re magi si vestivano da levatrici di Gesù perché in un apocrifo del nuovo testamento in un apocrifo del Vangelo ci sono le levatrici che sono delle coprotagoniste della scena della natività e via discorrendo e tutta questa pacottiglia che la chiesa da cui la chiesa aborriva però poi piaceva al popolo e allora i vescovi dovevano inghiottirsela e qualche volta ci si divertivano tutto questo su tutto questo Francesco pone un cambiamento una vera metanoia fa un presepio che è un presepio eucaristico proprio nel senso di un presepio con pochissimi personaggi un po' di paglia la mangiatoia due animali che non ci sono nella descrizione della natività dei Vangeli canonici sono negli apocrifi ma si leggevano gli apocrifi si rappresentavano gli apocrifi il bue e l'asino mi dispiace mi dispiace per noi tutti quando arrivi il Natale tutti abbiamo il bue e l'asinello da mettere per esempio accanto a Gesù non ci sono nei Vangeli canonici però sono importanti probabilmente sono un residuo di un'intrusione mitraica il bue è in realtà il toro di mitra l'onagro è a sua volta un animale sacro del mitraismo perché il primo cristianesimo ha avuto molto a che fare soprattutto con i culti solari eccetera ma in realtà i padri e la chiesa hanno messo le mani avanti Agostino e hanno detto badate questi sono simboli dell'universalità del messaggio del Cristo il Cristo mica è venuto per gli ebrei e basta gli ebrei sono rappresentati dal dal sacro toro dei sacrifici ma poi ci sono gli asini sono cocciuti sono ostinati quindi quale migliore rappresentazione dei popoli pagani e tutti e due sono chiamati all'atto della natività ma la natività non è solo un splendido momento esemplificativo dell'incarnazione Francesco lo intende così perché che il bambino che nasce è povero e nudo un grande pittore del del nostro umanesimo del nostro rinascimento che il perugino se ne è ricordato in una tela che adesso è agli uffizi di Firenze dove la mangiatoia non è posta in una semplice rastrelliera di legno eccetera eccetera ma c'è un sepolcro pagano dal quale si è ricavata una mangiatoia in questa tomba coperta di paglia è deposto il bambino e questo richiama il sepolcro la nella natività Gesù è povero e nudo esattamente come quando scende nel sepolcro anche se ci starà solo per tre giorni la natività è un momento appunto eucaristico fondamentale poi il resto è esornativo e tutto quello che si è detto dopo appartiene allo sviluppo di quest'idea di Francesco ma l'idea di Francesco è basilare e rivoluzionaria al tempo stesso Francesco ha compiuto delle profezie padre Marco Daviano vive il tempo della crociata come l'ha vissuto Francesco è stato crociato Francesco senza dubbio sì altrimenti non gli sarebbe stato possibile arrivare al campo e da Mietta era obbligatorio in tempo di crociata se si voleva andare in terra di infedeli prendere la croce e prendere la croce era anche un'operazione positiva si prendevano delle indulgenze si prendevano delle dilazioni ma questo non interessava a Francesco perché si riceveva il diritto di avere delle dilazioni nel pagamento dei debiti era anche una buona operazione economica se si era in strettezza Francesco va alla crociata ma cosa fa alla crociata Chiara Fruoni scrive un libro intero per dimostrare secondo me forzando qualche volta un po' i termini che Francesco in questo contraddiceva la volontà pontificia senza dubbio il Papa ha bandito la crociata senza dubbio Francesco è andato alla crociata ma non certo per uccidere i saraceni soprattutto Francesco anche se avesse voluto non avrebbe mai potuto uccidere nessuno era già diacono e come diacono apparteneva al clero ecclesia borretta sanguine non avrebbe mai potuto portare le armi e Francesco le avrebbe sapute portare da giovane ha fatto la guerra è andato alcuni mesi in prigione dei perugini prigioniero dei perugini che avevano vinto la guerra contro gli assi sani Francesco sapeva bene cosa era la vita e sapeva bene cosa lasciava quando quando si è convertito e allora è molto semplice Francesco va alla crociata perché sa che lì c'è bisogno di gente come lui perché quelli che hanno bisogno del medico sono gli ammalati non i sani e quelli che vanno in crociata e che pensano di potersi guadagnare il paradiso soltanto andando a ammazzare i saraceni e poi di poter continuare a fare il loro comodo perché tanto ormai hanno fatto la rosanta operazione e lì si sbagliano perché si viene giudicati non solo secondo lo ius adebellum e allora andare alla crociata è opera meritoria giuridicamente parlando ma anche secondo lo ius in bello come ci si comporta e allora se si va alla crociata e si ammazza un bambino o si violenta o si violenta una donna non si va in paradiso e non si diventa santi perché la santità è l'esercizio eroico delle virtù cristiane ed esercitare la virtù è un fatto personale non ci sono non ci sono indulgenze plenarie che tengano padre Marco Daviano si si inserisce è stato detto benissimo in una grande linea che è quella che parte da Poitiers e che arriva sul campo di Vienna e poi continua a Buda a Belgrado e poi ancora per la durata e tutte le guerre balcaniche questo però se noi prendiamo lo sticos il pezzetto di storia che riguarda che cosa la guerra fra gli europei e gli europei orientali se si preferisce e i turchi ma andiamo oltre andiamo al conflitto fra musulmani e cristiani e allora è giusto partire da Poitiers ma sarebbe addirittura giusto partire anche anche da prima perché ci sono stati altri scontri prima del 732 fra cristiani e musulmani ma gli scontri fra cristiani e musulmani venivano dopo una serie di altri scontri appunto fra l'oriente e l'occidente e allora perché non far partire questa grande sceneggiata mondiale dello scontro fra orientali e occidentali perché non farla partire dalla battaglia di Adrinopoli per esempio che segna il tracollo della pars occidentis dell'impero e perché non andare ancora più ancora più indietro non pensare per esempio alle guerre di Alessandro da che parte lo mettiamo però Alessandro Alessandro è un occidentale non era un greco infatti i greci lo rimproveravano ma pensava in greco e da greco però si è aperto alle culture orientali e le ha portate nel suo impero macedone e ha costruito questa grande realtà nuova che è l'ellenismo e poi è stata ereditata dal mondo romano che è stato un mondo di sintesi fra Oriente e Occidente ma non senza non senza scontri lo scontro fra Cesare Pompeo e poi lo scontro fra Ottaviano ed Antonio è anche quello uno scontro fra chi voleva restare fedele alle prische virtù romane ed era già un'interpretazione nell'Occidente e chi invece si voleva aprire il resto del mondo arrivare fino alla Grecia fino all'Egitto fino alla Persia come c'era arrivato Alessandro Magno fino ai limiti della Cina e questo è una visione orientale in questa ecco questo grande psicodramma collettivo si può in realtà leggere alla luce di una continuità però una continuità che ha le sue che ha le sue frammentazioni interne è una continuità che muta continuamente che ha le sue rotture e le sue riprese è una continuità storicamente parlando da leggere in termini critici padre Marco non vuole la distruzione dell'Islam non vuole nemmeno che i turchi siano maltrattati una volta che sono stati vinti una volta che sono stati imprigionati lui interviene interviene presso l'imperatore interviene presso il re di Polonia interviene presso i capi militari li rimprovera per come trattano i turchi che debbono essere portati al Cristo ma non possono essere obbligati in quanto uomini liberi a soggiacere alla nuova fede e i crociati perché di crociati si trattava perché avevano ricevuto una bolla di crociata siamo alla fine del Secento ma il diritto canonico impone lo stesso questa disciplina e i crociati tendevano a battezzare per forza e questo Marco non lo può tollerare come non può tollerare che si lasciano morire i soldati turchi feriti senza cure perché sono degli infedeli e con questo naturalmente si attrae anche delle critiche si attrae anche delle nemicizie deve intervenire più volte la famiglia imperiale anche l'imperatrice ma soprattutto l'imperatore in prima persona per difenderlo se uno conosce un po' di storia cristiana in generale si pone il problema questa cosa l'ho già vista questa cosa mi è già successa mi è già passata sotto gli occhi studiando e allora si va un paio di generazioni all'indietro ci si sposta di un po' di chilometri verso ovest si arriva nella Spagna del siglo de oro e si e si vede qualcosa di straordinario riprendo un attimo un discorso che ho cominciato e poi ho lasciato da parte quando ho detto i crimini e il fascismo il fascismo ci ha fatto credere ma il risorgimento ce l'aveva fatto credere prima di lui il fascismo ha continuato che ci sono dei secoli della storia italiana che non vanno nemmeno studiati non sono degni di essere studiati sono momenti in cui non è successo nulla quante volte io quando insegnavo al liceo mi sono sentito ripetere questo refrain quando dicevo mi parli dell'Italia del 600 il ragazzino e la ragazzina scranavano gli occhioni e dicevano ma professore ma non è successo nulla fra 6 e 700 dico il cavaliere marino penso che non sia nulla insomma non lo so le monarchie italiane lo stesso regno di Napoli va bene c'era la Spagna ma è sempre il regno di Napoli se lo stile non è successo nulla la grande arte la grande musica metastagio è nulla Bernini è nulla risposta ah vabbè ma quella è storia dell'arte si va bene ma non si chiudono i cassetti e se ne aprono degli altri gli italiani sono stati padroni dell'Europa perché gli italiani erano in tutte le corti erano militari molto spesso il conte di Montecuccoli maresciallo dell'impero nato a Modena ma molto più spesso erano pittori architetti scultori musicisti le corti europee dominavano l'Europa da Parigi a Londra a Vienna a Madrid ma a corte dominavano gli italiani quando Vittoria Alfieri si meraviglia e un po' si disturba perché il metastasio vede il metastasio fare la genuflessione al passaggio all'imperatrice Maria Trici Teresa Alfieri avrebbe dovuto riflettere che il metastasio in realtà era un pochino il vero padrone della corte di Vienna era assolutamente idolatrato come lo sarebbe stato idolatrato qualche anno dopo idolatrati anzi a plurale personaggi come Salieri o come dal ponte gli amici di Mozart perché la storia la storia la storia la storia del Salieri abbia abbonenato Mozart è una storia se la sono inventata alcuni alcuni scrittori insomma non è vero non è così ma questo imperialismo artistico e culturale dell'Italia è stato dimenticato e se oggi si dovesse riportare in auge sul Salieri come qualche politico vuole come qualche partito politico vuole la grande cultura italiana la grande identità italiana si dovrebbe fare un monumento ai secoli dimenticati ma a questi secoli dimenticati i nostri storici dell'ottocento e del novecento a questi secoli dimenticati hanno dedicato dei libri spesso anche molto belli ma assolutamente calugnosi l'Italia in mano degli stranieri il popolo italiano si dà retta alla Martina il popolo italiano un popolo di morti non è vero in questo momento certamente però legemonia politica culturale eccetera aspetta da altri paesi senza dubbio guardiamo la Spagna guardiamo la Francia e si va in Spagna e si scopre una cosa che se si è anche studiosi del cristianesimo o magari tu cur cristiani e cattolici ci fa paura perché noi troviamo una Spagna dominata da una santa inquisizione questo lo sanno tutti che non era l'inquisizione pontificia perché i re di Spagna personaggi come personaggi come Filippo II il figlio di Carlo V figuratevi se si lasciavano scappare l'egemonia dell'inquisizione diciamo col permesso del Papa l'inquisizione di Spagna dipendeva dal re l'inquisizione di Spagna perseguitava i mistici tutti si immaginano che la persecuzione dell'inquisizione di Spagna fosse a danno delle streghe perché Goia nell'ottocento si è divertito a disegnare le streghe ma non è vero la perseguitazione di Spagna non si interessava alle streghe i luterani e soprattutto i calvinisti bruciavano le streghe i cattolici spagnoli non bruciavano le streghe non gli interessavano qualcuna ci capitava loro erano persone serie perseguitavano gli eretici perché gli eretici fanno paura al potere le streghe no l'inquisizione di Spagna è un'organizzazione del re e come tale è perseguita anche i mistici l'inquisizione di Spagna ha perseguitato Santa Teresa d'Avila ha perseguitato San Juan della Cruz San Giovanni della Croce duramente Marco Daviano è un cappuccino la Santa Sede e anche gli organi inquisitoriali in generale non amano i cappuccini gente che deve stare con i morti infatti non a caso ai cappuccini si fanno fare funerali e gente sono cristiani sono francescani riformati cosa vuol dire questo fatto il francescano riformato vogliono tornare alla vecchia regola di Francesco quale tipo di insubordinazione rispetto alla Santa Sede rispetto all'autorità pontificia c'è dietro a questa cosa che ha fondato i cappuccini l'ordine francescano riformato che ha la superbia di voler tornare in pieno Cinquecento alla purezza di San Francesco ma chi credono d'essere e lo hanno dimostrato subito che credono d'essere il padre Occhino è diventato luterano voilà questa è la quadratura del cerchio Marco Daviano è circondato dalla diffidenza di parte della Chiesa Cattolica e quindi anche dalla diffidenza di parte della Corte di Vienna e quando si arrischia a dire che i soldati cristiani stanno agendo male sono in realtà gente che ruba che uccide eccetera e che va tenuta ed è giusto anche militarmente in questo è un grande comandante militare non perché abbia agitato la spada lui la spada non l'ha mai nemmeno toccata però dice e dice esattamente quello che diceva nei suoi trattati il conte fa il maresciallo a Montecuccoli la base del servizio militare la base la causa della vittoria non è l'eroismo è la disciplina non è l'eroismo è l'organizzazione i buoni soldati come facevano i soldati romani come fanno i turchi tutte le volte che hanno marciato per 20 chilometri a quel tempo i chilometri ancora non c'erano c'erano le miglia c'erano i piedi ma c'erano altre cose ma insomma l'equivalente è di 20 chilometri si fermano si guardano bene dallo stravaccarsi per terra mangiare quello che capita e poi dormire e magari fare i loro bisogni nel vicinato sporcando in terra eccetera no no si fa l'accampamento e le prime cose che si fanno nell'accampamento sono i servizi igienici così fanno i turchi dice il maresciallo di Montecuccoli che padre Aviano aveva letto la guerra contro i turchi un grande libro del vincitore della battaglia di San Gottardo che prende in giro i suoi colleghi generali e dice ah voi ridete eh quando vedete i turchi in marcia quando le vostre spie vi riferiscono come marciano i turchi voi ridete sempre perché noi a capo dei nostri eserciti ci mettiamo la fanfare le bandiere le trombe i tamburi sapete cosa mettono a capo dei loro eserciti i turchi dei pastori che guidano delle pecore e dietro dei pastori arrivano i mandriani che portano delle mucche e dietro le mucche arrivano dei buoni contadini con degli asinelli carichi di gabbie e dentro le gabbie ci sono le galline poi arrivano i giannizzeri e cosa vuol dire questo che a differenza di noi che viviamo di legumi avariati e di carne salata perché la nostra intendenza fa schifo e che siamo sporchi perché non facciamo bene gli accampamenti mentre i turchi appena arrivano da qualche parte come i romani fanno l'accampamento scavando per prima cosa i canali igienici toilette come diremmo educatamente noi bagni 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 caldi stufe sauna sudore e poi cibo fresco che è quello procurato da quelli lì con le pecore con con le mucche con le galline che fanno le uova le mucche fanno il latte e senza latte non si cuoce il riso alla turca e se i giannizzeri non hanno riso fresco e carne fresca si mettono seduti fedelissimi al sultano muoiono per il sultano bambini cristiani presi da piccoli fatti diventare musulmani lontani dalle loro origini dalle loro radici che vedono solo la fedeltà al sultano però se il sultano non gli dà il latte fresco il riso il riso ben cotto e il tè fresco si sedono in terra rovesciano i bricchi del tè fanno sciopero non combattono e il sultano su questo non ci può fare nulla e non c'è barba di sultano o barba di visir loro per questo vincono la guerra dopo che loro hanno cominciato la guerra dopo un mese sono ancora freschi come prima da noi siamo tutti malati di dissenteria e questo la chiave dell'invincibilità dei turchi dice della guerra uno che di guerra se ne intendeva mentre invece parlano di guerra senza intendersene guardano soltanto agli scontri militari allora naturalmente anche sugli scontri militari ci sarebbe da dire ci sarebbe da dire che cara Mustafa il gran vizir del sultano Mometto IV quando parte insieme al sultano per andare verso Edirne da Istanbul con un esercito di 300.000 persone da cui c'erano anche poi sarebbero arrivati per strada anche dei cristiani che erano però sudditi del sultano i valacchi gli ungheresi eccetera quando parte con queste 300.000 queste 300.000 persone non sono soldati i soldati ce ne siano la metà il resto sono addetti ai servizi logistici partono e vanno dove non lo sa nessuno e però cara Mustafa che era un parvenu perché era un un trovatello della famiglia di Metsokil del grande vizir della metà del 600 era stato allevato all'interno della famiglia ma non apparteneva a questa famiglia e questa famiglia era famosa perché i gran viziri sono i primi ministri e il sultano aveva mantenuto per decenni dopo la battaglia di San Gottardo eccetera la pace una ventina d'anni di pace sono troppi fra l'altro per il diritto musulmano la man cioè la tregua che si può fare con gli infedeli non deve superare vent'anni dopo vent'anni bisogna ristabilire o si ristabilisce il regime di guerra oppure si fa un'altra tregua arrivate a quei vent'anni nel frattempo il potere dei vizir Sochiullo è finito il nuovo vizir cara Mustafa deve presentare al suo sultano lui che è un parvenu che non è nessuno un dono importante e lui pensa di presentarli su un piatto d'argento la città di Vienna e parte dopo aver mantenuto la segretezza per mesi parte con un grande esercito ma questo grande esercito è qualcosa che non funziona e le spie dell'imperatore e le spie del re di Polonia di Jan Sobieski lo 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 comunicano immediatamente ai loro alti comandi badate che questi stanno stanno marciando verso Budapest probabilmente vogliono venire a Vienna ma avranno il coraggio di fare quello che hanno fatto nel 1529 circondare di nuovo Vienna e cercare l'assedio e cercare di metterla a sedio nel 29 gli è andata male vogliono riprovarci questo forse è il sogno di cara Mustafa però cara Mustafa non è un buon militare è un politico è un bravo politico e da bravo politico lui pensa io regalo al mio sultano la città di Vienna e divento il padrone del suo cuore praticamente però parte troppo in fretta il suo punto debole sono i cannoni noi lo sappiamo questo cannoni in generale presi al nemico di calibri diversi devono fare delle strade che a volte dove a volte gli affusti dei carriaggi si affondano nel fango portare tanti cannoni per una strada tanto lunga tra la primavera e l'estate quando nella pianura balcanica la terra diventa un pantano e non funziona quando arrivano siamo verso la metà di luglio ormai i cristiani hanno già capito cercano di correre ai ripari però non possono evitare che cara Mustafa circondi la città di Vienna certo chi conosce l'orografia del luogo sa che con Danubio che oggi è irrigimentato entro argini eccetera ma allora nel 600 dilagava ancora un po' per tutta la pianura in infiniti rivoli eccetera si circondava male una città come Vienna era messa apposta lì per essere mal circondata e per essere quindi difesa da difesa che non erano soltanto le mura che c'erano ma erano anche il sistema idrico che c'era intorno e le montagne che c'erano intorno eccetera quindi una città un po' difficile da assediare ma cara Mustafa non se ne preoccupa perché non se ne preoccupa perché lui pensa che tanto non ci sarà la guerra come arriverà un esercito di 150.000 combattenti impensabile per quel tempo più altri 150.000 non combattono ma lavorano e via discorrendo ma probabilmente l'imperatore se ne andrà e deciderà di mollare Vienna come ha mollato Buda Buda l'aveva già mollata molto prima altrimenti ci sarà l'assedio e l'assedio finisce quando gli assediati finiscono le munizioni e soprattutto i viveri e allora ci sarà un'onorevole resa altrimenti dovremo proprio prenderla l'assedio sì ma in tutti i casi potremo prenderla perché ci abbiamo tempo c'è tutta l'estate circondiamo la città impediamo che arrivino i rifornimenti e la città cade come una peracotta anche perché nel frattempo noi abbiamo degli alleati che lavorano per noi pensa Karamustafa chi sono gli alleati che lavorano per noi? uno soprattutto il Re Sole il Re Sole sa benissimo che i turchi stanno percorrendo la penisola balcanica verso Vienna il suo dovere di Re Cristianissimo e il Papa glielo dice sarebbe correre in aiuto all'imperatore ma il fatto è che c'è anche la politica all'interno del mondo cristiano ecco perché benissimo ha fatto ora vediamo se trovo il segno non lo trovo comunque benissimo ha fatto il professor Brunettin a parlare di Europa Cristiana fra virgolette perché bisogna anche intendersi intanto Europa Cristiana beh insomma alla fine del Seicento il processo quello che chiamiamo con espressione aggraziata il processo di secolarizzazione è già molto avanzato la Chiesa ha già perduto e la Chiesa Cattolica in particolare intanto se pensa mezzi fedeli con la riforma e poi ha già perduto gran parte del suo effettivo potere i re cristiani continuano a fare omaggio al Papa eccetera ma è in gran parte un problema diplomatico e il re di Francia cosa fa? il re di Francia ha una mira è il suo grande desiderio la Francia deve arrivare fino a Reno guardate che questa è una cosa importantissima per la fondazione stessa della scienza storica il re di Francia per arrivare fino a Reno comincia con l'arruolare dei monaci i monaci sono i bravi monaci benedettini dell'abbazia di Saint Germain de Pré quella vicino a Parigi adesso è nel centro storico ma allora era in periferia era nei prati appunto come dice il nome i quali erano monaci della congregazione di Saint-Maur monaci maurini e avevano una vocazione lo studiare e il trascrivere gli antichi testi e il re li pagava per questo e non chiedeva loro di trascrivere i grandi letterati i grandi filosofi i grandi poeti ma che di questo questo l'aveva già fatto l'avevano già fatto i re medievali poi c'era stata la pleiad nel mezzo Luigi XIV quando vuole la cultura ce l'ha ai suoi piedi no no chiede a questi buoni monaci di trascrivere dei registri notarili registri notarili che dimostrano come per esempio l'Alsazia la Lorena la Rur la Zar queste regioni che si infrappongono tra i confini del regno di Francia che sono ancora i Voggi grosso modo e il corso del Reno nel due trecenti erano pieni di feudatari francesi che naturalmente erano dei fedeli dell'imperatore romano germanico questo nel medioevo non dava nessun fastidio ma nel seicento si ragiona in maniera diversa e allora quando i benedettini di Saint-Maur ben pagati dal re Sole portano questi documenti la cancelleria del re ne prende atto dopodiché la passa alla diplomazia i diplomatici del re vanno dall'imperatore spesso ci vanno proprio in missione con questa documentazione e dicono maestà questi feudi che lei tiene a ad ovest del Reno erano feudi francesi e il re di Francia ne 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 reclama alla restituzione ci mettiamo d'accordo facciamo un patto l'imperatore dice ma nemmeno per idea sono terre tedesche da secoli benissimo chi ha visto chi è stato a Parigi ha visto il cortile de Saint-Valide dove ci sono in bell'ordine i cannoni del re Sole avrà letto quello che i cannoni hanno sulla base sulla cosiddetta culatta fate pazienza si chiama non è colpa mia la base posteriore dei cannoni c'è inciso sotto i fiordalisi del regno di Francia e la corona ultima razio regis quando il re non riesce a far ragionare gli interlocutori sgombrando le terre che appartengono al re di Francia in bell'ordine e allora bisogna bisogna agire col cannone la guerra e la guerra c'era già dall'81 e il re di Francia aveva occupato Strasburgo e nel frattempo stavano arrivando i turchi e il re di Francia riempiva l'Europa perché era pieno di spie e di intellettuali che lui pagava è importante questo fatto degli intellettuali pagati in nessuna allusione naturalmente e e gli intellettuali del re di Francia dicevano ma come è cattivo e come è stupido e come è vile l'imperatore ma come c'è i turchi c'è i turchi alle porte ma l'imperatore deve essere il difensore dell'Europa cristiana altrimenti che corona imperiale ha è un inutile orpello è un pezzo di gioielleria che non serve a nulla l'imperatore deve combattere contro gli infedeli e invece questo qui pensa a riprendere Strasburgo invece di combattere contro i turchi nel frattempo il re di Francia spiega ai buoni mercanti cattolici di Strasburgo badate se mi fate entrare nella capitale del Sazia una delle città più ricche di questo momento io non farò come l'imperatore romano germanico l'imperatore d'Austria che ha dato dei privilegi anche ai vostri colleghi luterani i luterani sono dei maledetti nemici di Dio e io li tratterò come meritano li caccerò si li caccerò da Strasburgo e voi erediterete le sue ricchezze i mercanti cattolici capiscono e dicono per dirci qua si ci si avvicchisce e si va anche in paradiso e Strasburgo diventa francese la pugnalata da occidente mentre l'imperatore sta aspettando che arrivi l'ondata turca però l'imperatore risponde immediatamente e il suo modo di rispondere è accettare la corte assidua che gli fa lo sciad di Persia ecco dove dicevo l'approfondimento è splendido qui dentro quello che bisogna ricordare di farsi è anche una contestualizzazione più ampia lo sciad di Persia ha una funzione straordinaria non fa più guerre ne ha fatte con i turchi e le ha anche perdute però in quel momento sa di avere il coltello alla parte del manico e scrive scrive al papa scrive all'imperatore scrive al re di Spagna e dice questo è il momento questo è il momento di assalire il sultano di Istanbul il sultano di Istanbul sta buttandosi in un'impresa che non avrà che non avrà un futuro ci sta buttando dentro un esercito che è quasi la maggioranza degli uomini validi del suo impero e questo è il momento di saltarli addosso voi liberate Vienna ma non fermatevi a liberare Vienna trasformate la liberazione di Vienna in una liberazione di tutti i Balcani e badate quello che è successo le guerre balcaniche poi e quindi la liberazione di Buda la liberazione di Belgrado la grande gesta di Eugenio di Savoia e via discorrendo tutto il primo Settecento quella cosa che noi non studiamo nelle scuole italiane purtroppo perché nel Settecento non è successo nulla e voi la salite da lì io la salgo da Oriente e lo schiacciamo in una morsa e allora io lo chiedevo alcuni anni or sono ai fautori dello scontro di civiltà il re di Francia è alleato del sultano di Istanbul l'imperatore si allea con lo Shah di Persia gli sfuggiva che lo Shah di Persia è un musulmano sia pure sciita come sfuggiva il re di Francia il re cristianissimo che il sultano era un musulmano sia pur sunnita evidentemente qui non siamo davanti alla lotta della cristianità contro l'Islam come ogni tanto qualcuno dice qualcuno lo dice per superficialità qualcuno lo dice per partito preso perché è una cosa che può avere anche una ricaduta nella politica di oggi no siamo davanti a una grande complessa guerra nella quale c'entrano anche valori religiosi ecco questo è il difficile da capire e il bello anche della storia da capire l'assedio di Vienna è stato condotto dalle due parti anche con grande fervore religioso certo era un fervore religioso che prendeva anche i cristiani che stavano con i turchi perché ci sono i cristiani che stanno con i turchi gli ungheresi i valacchi i moldavi anche se il sultano non si fida troppo di loro perché sono pur sempre cristiani però lavorano all'interno della della compagine turca e sono fedeli al sultano e il sultano chiede ai preti i moldavi ai preti i valacchi ai preti ungheresi di pregare per lui di pregare per l'armata turca e non lo fanno dall'altra parte cosa fanno i tartari di Crimea che vanno che in parte stanno col sultano in quanto musulmani ma in parte no i i can di Crimea che sono ribelli al al can che stava odessa e stanno con i anzobieschi i anzobieschi è pieno di turchi e di tartari musulmani quando i anzobieschi prende entra in Vienna e poi lascia la tenda che era di cara Mustafa almeno così si dice ci mette sopra l'aquila polacca eccetera eccetera però poi se ne va lascia il figlio può darsi che il figlio sia quel signore con la veste rossa che sta in secondo piano nel nel gruppo centrale però lui lui se ne va dopo aver scritto essere entrato nella tenda di cara Mustafa aver visto le grandi ricchezze aver ammirato anche la giatezza con cui il gran vizir faceva la sua il suo compito di assediante scrive immediatamente alla moglie adorata la Maria Casimila che era una una spia del re di Francia era anche una parente del re di Francia cioè lui lo sapeva benissimo lui voleva che lei scrivesse del suo trionfo non dell'imperatore del suo del suo trionfo sotto le mura di Vienna è lui che ha liberato Vienna poi viene l'imperatore lui che è semplicemente lei gli rende omaggio ma tutti sanno che il liberatore di Vienna è Jan Sobieski e poi cosa fa va nel campo tartaro va nel campo dei tartari che combattevano con lui e che erano dei buoni musulmani presiede senza pregare perché lui è cristiano presiede la preghiera del ringraziamento ad Allah per la vittoria del re di Polonia fatta dai suoi guerrieri tartari poi naturalmente li riempie di monete d'oro c'è anche un quadro bellissimo in cui butta per aria monete d'oro i tartari ci si buttano sopra è così che vanno le guerre ed è del tutto normale che vadano così ed è logico che Dio protegge le armate di tutti ed è legittimo che tutti preghino il Dio per la vittoria delle loro armate poi loro sanno che Dio onnipotente fa quello che vuole e che i suoi giudizi sono inappellabili per cui bisogna ringraziarlo anche se si perde però il nostro dovere il nostro tornaconto è pregarlo per la vittoria caro Mustafa si accorge allora della tragedia del suo errore pensando che tanto tutto era un blef un blef costosissimo però arrivati a Vienna bastava accamparsi tirare un po' di cannonate fare un po' di mine cioè di di gallerie scavate sotto le mura prima o poi le mura sarebbero crollate e in parte crollarono e i viennesi si sarebbero arresi invece i viennesi non si arrendano l'imperatore tarda aiutato dal papa ma è tarda a mettere insieme un esercito però si muove il re di Polonia questo tutto sommato cara Mustafa non se l'aspettava perché erano convinti sapevano benissimo che il re di Polonia sposo di una nobile francese tecnicamente come sempre i polacchi tendente ad allearsi ai francesi come era tendente ad allearsi con i con i con i zardi russia è la politica corrente oggi bisogna ricordarselo perché magari poi i fronti cambiano col cambiare della storia ma poi nemmeno poi poi tanto e questo non ci si aspettava che il re di Polonia invece di essere fermato dal re di Francia che gli avrebbe detto non l'aiutare l'imperatore però c'è c'è il problema degli equilibri nell'Europa centrale e orientale c'è il problema dei boiari polacchi che sono un po' come i boiari russi non ci si può mica affidare tanto c'è sempre qualcuno che è pagato dall'imperatore e che se lui desse retta il re di Francia e lasciasse fare i turchi e conquistare Vienna poi magari gli creerebbe dei problemi all'interno della Polonia quindi tutto sommato Jansu Bieschi decide che è meglio fare il salvatore della cristianità lo fa bene era un grande attore fra l'altro quell'altro aveva fatto un errore gravissimo per la poliorcetica non del suo tempo scusatemi ma di tutti i tempi non aveva circunvallato cioè quando si assedia una città si fanno dei lavori di controvallazione la controvallazione è la fortificazione degli assedianti che fronteggiano gli assediati perché gli assediati dalle mura tirano sparano come ha segnato Cesare ad Alesia come ha segnato Cesare esattamente insomma serve la storia no? come ha segnato Cesare ad Alesia però se poi gli assediati hanno degli alleati che vengono alle spalle degli assedianti è un guaio allora per questo bisogna fare immediatamente la circonvallazione che non è un sistema di autobus come crediamo noi contemporaneamente la circonvallazione e le città ma è proprio questo una linea esterna alle mura e la circonvallazione è importante perché serve quando può succedere che gli assedianti diventano assediati e è proprio quello che è successo nella notte fra l'11 e il 12 settembre quando in fondo Karamustafa sapeva tutto le sue spie gli avevano detto tutto però lui non se ne curava perché era convinto che tanto sarebbero arrivati prima i messi di Vienna che non ne poteva più che ormai avevano finito di mangiare tutti i topi della città tutti i gatti della città avevano cominciato ad attaccare qualche cadavere perché succedono anche queste cose durante gli assedi e ormai erano alla stretta e invece prima della stretta arriva Sobiansky poi il resto evidentemente come si usa a dire è storia e voi lo vedete questo bellissimo libro ecco la mia la mia personale commedia nel senso etimologico del termine perché io ho letto il saggio dell'Agostini ho letto il saggio di Brunettini e ho detto per dinci quanta roba che non c'è nel mio libro anche se sono fonti che conoscevo eccetera eccetera avrei dovuto forse fare un libro sulla sedia di Vienna ho fatto un libro sui rapporti fra Vienna e l'impero ottomano e purtroppo avrei voluto fare di più però immediatamente siccome la storia grazie a Dio va avanti immediatamente mi è venuta la voglia e ho cercato anche di comunicarla agli amici di Pordenone spero di avere seminato bene e la voglia di andare avanti su questo lavoro per esempio dico immediatamente la cosa che mi riguarda di più anche come Fiorentino le carte di Brunetti qui siamo arrivati a un livello di sfruttamento e le carte di Brunetti è molto molto buono molto alto molto ben organizzato beh insomma vediamo un po' da andare avanti vediamo di di convincere le regioni del Friuli e della Toscana a darci una piccola borsa di studio per per passarla a un paio di studiosi che si occupino di questa cosa andiamo avanti come andiamo avanti e voi lo siete di Pordenone lo sapete con gli studi odoriciani andiamo avanti con gli studi marciani nel senso di Marco Daviano perché Marco Daviano è assolutamente ancora tutto qui si è fatto molto d'accordo ma è ancora molto ha ancora molto da studiare Marco Daviano è sottovalutato dal punto di vista teologico è sottovalutato dal punto di vista della storia della mistica è sottovalutato dal punto di vista della storia dell'oratoria sacra è sottovalutato dal punto di vista delle vicissitudini della Chiesa Cattolica fra 6 e 700 che non si esaurisce nel fatto che ormai i cattolici andavano per contro loro i protestanti andavano per contro loro ogni tanto facevano delle guerre no come nel mondo protestante ci sono delle lotte all'interno del mondo cattolico che sono incredibili io ho citato San Juan della Cruz o Santa Teresa Davila proprio perché sono santi che noi italiani sarà perché parlano spagnolo ma insomma abbiamo l'impressione di conoscere bene e invece non è vero dietro alla fondazione dei carmelitani scalzi quest'ordine che ci fa quasi ridere noi ci chiediamo ma c'erano anche quelli delle scarpe sì c'erano anche quelli delle scarpe a un certo punto se le tolgono e se le tolgono per tornare alla purezza dei tempi della fondazione dell'ordine del Carmelo XIII secolo però tutto questo crea immediatamente sospetti siccome esco da un libro che ho fatto appositamente sui mutamenti a cui stiamo assistendo e questo è un altro capitolo di questa storia di questa storia dell'attenzione fra Oriente e Occidente a geometria variabile cos'è l'Occidente oggi? l'Europa? siamo convinti che l'Europa sia puro Occidente? signora Meloni sembra convinta che l'Europa sia Occidente punto e basta e lo dico con grande rispetto perché è una persona che studia è una persona che si mette in discussione è una persona che legge documenti non tutti i politici lo fanno però questo suo essere così sicuro sicuramente occidentale se con questo intende dire lei è un baluardo dell'alleanza Nato va bene questa è la sua politica i trattati si possono anche mettere in discussione lei sceglie di non metterle in discussione questo ci sta costando 5 miliardi negli ultimi spese di sostegno all'Ucraina badate che 5 miliardi fate un po' di conti anche col vostro computerino tascabile o col vostro telefonino noi siamo una sessantina di milioni di persone in Italia se fossimo 50 milioni 10 in meno che non sono moltissimi poi questi 5 miliardi ci avrebbero sfilato 100 euro di tasca a testa bambini compresi guardate che questa guerra ci costa non solo le guerre del passato costavano e quindi l'allinearsi è importante oggi noi siamo occidentali beh sì ma che cos'è l'occidente l'occidente è nato l'occidente moderno è nato come vittoria dell'individualismo è nato come vittoria del primato dell'economico del primato del tecnologico l'Europa è questo e questo è basta beh io direi che questo non questo è basta nulla esaurito da nulla ma questo prevalentemente è la storia della giovane Europa della giovane America scusate non è la storia della vecchia Europa la storia della vecchia Europa è l'individualismo è il primato dell'economia è il primato della tecnologia ma è anche qualche altra cosa e noi in questo momento non a caso la vecchia Europa era abituata a distinguersi in un'Europa occidentale una mittel Europa Europa centrale e un'Europa orientale quando io sento non solo perché ho studiato a Mosca e perché io amo i musicisti russi o ammiro molto Caterina Caterina e Russia ma insomma quando sento il signor Putin che dice noi siamo l'Occidente contro di noi un pochino sento una stretta al cuore io siccome noi usiamo ordinariamente come sinonimi e sbagliamo e non è vero e se è stato vero una volta non è più così perché le parole appartengono la sostanza delle parole lo studio della sostanza delle parole appartiene alla semantica la semantica come tutte le scienze è una scienza dinamica una scienza che si muove quello che era vero un tempo non è più vero oggi un tempo può darsi che dire Europa o dire Occidente fosse la stessa cosa oggi forse non lo è più ma quando io sento il signor Putin dire l'Occidente è contro di noi cioè l'Occidente è contro la Russia io mi sento come se qualcuno mi avesse detto siamo noi europei in una sorta di guerra civile e forse in un certo senso lo siamo e di queste cose forse nel nord-est nel nord-est d'Italia si riesce a capire qualche cosa di più di quanto non si capisca nel nord-ovest o quanto non si capisca nel meridione e anche queste sono cose sono cose di grande importanza oggi noi siamo in un momento di ridefinizione da una parte c'è gli Stati Uniti d'America e l'anglosfera e io direi che l'anglosfera con l'eccezione del Sudafrica che non ci sta in questo momento è l'Occidente e forse l'Occidente è anche l'estremo oriente giapponese gli altri sono un'altra cosa sta crescendo un antinato che non è soltanto un antinato è una cosa molto più complicata che si chiama BRICS l'alleanza Brasile Russia India Cina e Sudafrica ma ormai ci sono entrati perfino due nemici tradizionali scusate due nemici tradizionali fra loro ci sono entrati l'Iran e l'Arabia Saudita che fino a ieri erano cane e gatto che adesso sono andati nei BRICS e allora dov'è che noi abbiamo isolato la Russia come sostiene il Presidente Biden e qui se si mette se si fa il conto delle nazioni che accettano l'alleanza della Nato e delle nazioni che invece stanno organizzandosi in questa alleanza militare ma anche economica diplomatica politica culturale che è il BRICS e ci si accorge quasi quasi che gli isolati sono gli occidentali noi europei cosa facciamo? L'Europa forse dovrebbe fare da tramite dovrebbe essere il grande ago della bilancia forse il suo il suo manifesto destino come amano dire gli americani il suo manifesto destino storico quello dell'Europa dai trattati di Vesfalia in poi perché l'idea della tolleranza mutua inter cristiano stoleranzia allora nel 1648 al tempo dei trattati di Vesfalia dire cristiano e dire europeo era esattamente la stessa cosa era un'idea che era venuta fuori profondamente con gli scritti di Papa Pio II Piccolomini che aveva scritto perfino una lettera al sultano anche se era una lettera che forse non era mai partita ma non è sicuro e forse il sultano l'aveva anche letta lì Papa Pio II dice europeo vuol dire essere cristiano se sei africano o sei asiatico appartieni a altre religioni beh questo può andarsi che nel 400 fosse più o meno così entro certi limiti ma poi non sarebbe più stato così poi sarebbe stata la cristianizzazione ulteriore sarebbe stato il colonialismo eccetera oggi i trattati di Vesfalia dicono mutua intercristiano stoleranzia ma noi molti di noi non sono più cristiani se non nella facciata l'Europa non si può definire più un'Europa cristiana siamo scivolati sul preambolo della Costituzione europea perché al Parlamento europeo si sono messi d'accordo su una cosa semplicissima secondo me intuitiva cioè che l'Europa non sia più cristiana perché è diventata laica e quindi magari la religione è diventata una cosa personale di ciascuno che può scegliere se essere religioso o no certamente i nostri stati sono stati laici io che sono cattolico non vorrei che tornassero francamente non me la sentirei dire speriamo che tornino stati confessionali però questo non ci autorizza a dimenticare che le nostre radici culturali religiose eccetera sono radici cristiane e questo è quasi intuitivo per cui l'ostinazione francese e olandese che ha fatto bloccare il discorso sulla Costituzione europea su questa frasetta del preambolo è un'ostinazione storicamente parlando incomprensibile inconsistente poi sul piano delle tattiche delle strategie politiche il discorso cambia perché tutte le cose hanno la loro logica oggi quindi siamo obbligati a rivedere i nostri parametri siamo obbligati a dire no non si può più dire che occidente e Europa sono esattamente la stessa cosa e credo che gli europei dovrebbero salvaguardare il loro ruolo di ago della bilancia e lo potrebbero fare pur restando naturalmente fedeli a tutte le alleanze alle alleanze si resta fedeli però nello stesso tempo i fatti d'alleanza non sono il Vangelo i fatti d'alleanza non sono fatti una volta per tutte i fatti d'alleanza scadono e si rinegoziano di nuovo io non non ho motivo di dire che l'Italia dovrebbe uscire alla Nato ho motivo di pensare che 136 basi militari extraterritoriali su cui il governo italiano non ha autorità e hanno autorità gli Stati Uniti d'America direttamente come base militare dell'esercito americano oppure gli Stati Uniti d'America indirettamente come base militare della Nato che è un organismo militare guidato da un alto ufficiale che deve essere statutariamente un alto ufficiale statunitense e questo è un discorso che un paese che tiene alla propria sovranità non può tollerare semplicemente bisogna rinegoziare in qualche modo le cose signori ringraziamo il professor Cardini per questa lezione che è spaziato dalla storia medievale della storia moderna il cameo appunto su l'assedio di Vienna e poi è finito inevitabilmente perché lo storico non si sofferma soltanto sul passato ma guarda anche si proietta sugli equilibri geopolitici e quindi un giorno saranno storici del presente quindi è una lezione straordinaria noi lo ringraziamo il libro di cui si è parlato senza citare il titolo è appunto Marco d'Europa la grazia e il potere che trovate a disposizione grazie a tutti grazie a tutti